Poi per quanto riguarda tutto il resto mi sembra che siano domande tecniche, ricordo il discorso Sculli invece, lo voglio dire perché questo è un ragazzo che è preso dalla UNS ed era sempre stato chiacchierato, da noi ha fatto 4-5 campionati avendo sempre fatto il suo dovere e tra l'altro è anche un ragazzo che in campo si faceva sentire, diciamo che era ardimentoso, aveva un forte carattere. Questo poi non so se gli proveniva dalla famiglia o da un certo tipo di cultura, però sicuramente a me non risulta che abbia connivenso con questo o con quello o comunque il nostro rapporto era proprio sul campo.